Allora, in questo video vi spiegherò dell'importanza per il combattente di saper fuggire. Il fuggire per un combattente equivale a una strategia, non certo un atto di vigliaccheria, a una strategia, cioè il combattente sceglie di fuggire perché appunto la situazione del momento glielo impone, o perché magari sei appena evaso da una precedente cattura e quindi hai avuto una finestra di tempo per scappare e l'hai colta, o perché in quel momento tu non puoi affrontare il nemico e quindi decidi di sganciarti, decidi di mettere distanza tra te e loro. Quindi, come il combattente deve fuggire? Allora, intanto non sei tu che decidi quando devi fuggire e quando non fuggire, cioè sulla linea temporale intendo, cioè o di giorno o di notte, questo non sei tu a decidere, è la situazione che te lo impone, ok? Quindi tu puoi essere anche in una giornata come questa, cioè in piena luce, e ti trovi nella circostanza di dover scappare. Allora, la prima cosa che devi fare, la cosa fondamentale che devi fare, è quella di mettere più distanza possibile tra te e la minaccia, ok? Che la minaccia può essere attiva o può essere passiva. Cioè una minaccia attiva è una minaccia che è effettivamente nell'azione di inseguirti, quindi tu stai scappando in maniera attiva da qualcuno che ti sta già inseguendo. Una minaccia passiva è che tu stai scappando in maniera attiva da una minaccia che comunque non sa che tu stai scappando, quindi sono due cose differenti. Se la minaccia è attiva, se la minaccia è attiva, cioè ti ha rilevato e tu stai scappando, la prima cosa che devi fare, che devi pensare in assoluto, è quella di mettere più distanza possibile tra te e la minaccia, ok? Questo è fondamentale, non devi pensare ad altro, non devi pensare assolutamente nient'altro. Mettere distanza, scappare il più lontano possibile e velocemente da quella che è la minaccia. La seconda cosa che devi pensare è che mentre scappi, mentre scappi, non devi scappare, non devi scappare in linea retta. Generalmente, quando si scappa da una minaccia, si tende istintivamente a scappare dalla parte opposta a quella che è la minaccia, quindi dalla parte opposta se ce n'è la possibilità. Se ce n'è la possibilità si tende istintivamente a scappare dalla parte opposta, come quando si viene rimbalzati da un qualcosa, vieni rimbalzi indietro praticamente. Nel rimbalzare indietro, inizialmente, per acquisire, per mettere distanza, tieni una linea dritta, ma subito dopo, subito dopo che tu sei uscito dal contatto visivo con la minaccia, devi cominciare ad avere delle traiettorie a zigzag, cioè devi cambiare direzione. Perché? Perché devi cambiare direzione. Perché chi ti sta inseguendo, l'inseguitore, inizialmente a contatto visivo, cercherà di raggiungerti nella direzione in cui ti vede fuggire, questo è ovvio, ok? Cercherà di raggiungerti, quindi cercherà di venirti esattamente dietro. Quando ti avrà perso di vista, perché tu magari sei riuscito a mettere distanza tra te e loro e in un contesto boschivo o vegetativo sei riuscito a rompere il contatto visivo, l'inseguitore, l'inseguitore, anche se tu hai rotto il contatto visivo, per un certo periodo di tempo, continuerà a seguirti nella stessa direzione che inizialmente tu hai preso, ok? Non trovandoti, perché tu, quando rompi il contatto visivo, devi cambiare direzione. Mentre lui, non sapendo che tu hai cambiato direzione, per un certo periodo di tempo tenderà a continuare a seguirti nella direzione iniziale, ok? Questo ti permetterà sia di allungare la distanza ulteriormente tra te e l'inseguitore e ti permetterà appunto di mettere l'inseguitore in una situazione difficile, perché a un certo punto l'inseguitore si capirà di averti perso. Allora, che cosa farà a quel punto? Quando capirà, avrà realizzato che tu molto probabilmente non sei più nella direzione in cui l'inseguitore ti sta cercando, comincerà ad osservare dei segni nel terreno, comincerà a capire se ci sono dei segni del tuo passaggio nel terreno, ma questo significa perdere del tempo, tutto per tempo che andrà a tuo vantaggio, perché l'inseguitore per fare tutti questi ragionamenti, per arrivare a capire che tu hai cambiato direzione e quant'altro, ha necessità di tempo, ok? Ed è in questo tempo che tu devi approfittarne, ok? Questo tempo ti darà la possibilità di allungare la distanza, ok? Per il momento mi fermo qui con le spiegazioni, c'è molto altro da dire, riprenderò comunque il discorso in un altro momento, in un altro video, lo continuerò in un altro video. Se hai delle domande per quanto riguarda queste tecniche di evasione iniziali, scrivimelo pure nei commenti e cercherò di darti delle risposte, e nel frattempo ti rimando al prossimo video. Ciao!